Ciao a tutti, sono Giacomo Pasquali e siamo nel mio studio. Oggi vi faccio ascoltare la ECO EGO ICON, una chitarra dal rapporto qualità-prezzo secondo me incredibile. La chitarra monta corde da Dario Nickel Bronze 1253 e ascolterete diversi esempi registrati in tecnica mid-side per preservare anche l'ascolto in mono. Buon ascolto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.